Nella domenica di Pasqua in Abruzzo si sono registrati 438 nuovi positivi alla Covid-19 di età compresa tra i 5 mesi e i 99 anni che hanno portato a 66.594 il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia. La provincia più colpita è quella dell'Aquila con 191 casi, 88 nuovi positivi in provincia di Chieti, 53 in quella di Pescara, 96 in provincia di Teramo con 10 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 4.999 tamponi molecolari e 986 antigenici per un totale di 5.985 test con un tasso di positività complessivo del 7,3% in risalita rispetto agli ultimi giorni. Tra i pazienti deceduti che portano a 2.169 il numero delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore 6 guariti che raggiungono quota 53.697, pertanto sono 10.728 gli attualmente positivi. Negli ospedali 585 ricoverati in area medica e 69 ricoverati in terapia intensiva rispettivamente più 12 e meno 2 le differenze registrate nelle ultime 24 ore. 10.074 positivi sono invece in isolamento domiciliare 419 in più rispetto a ieri.